Sofia è una bambina molto solare, ha una grande energia, è sempre allegra, è molto vivace, le piace giocare, le piace stare in mezzo alla gente. Ne ha avuto un'emorragia cerebrale a tre giorni di vita e quindi di qualcosa che capita a tuo figlio penso sia la cosa maggiore che possa succedere. Sono stati mesi in cui ci siamo sentiti soli, soli tanto perché i medici non ci davano speranze. Invece ho conosciuto mamme con lo stesso problema che mi hanno indicato il gruppo su Facebook. Tutti i familii sono capiti con le altre famiglie molto presto e possono comprare le esperienze. Iniziamo con un po' famiglie e poi è diventato più grande e ora ci sono più di 600 famiglie. E poi abbiamo deciso di rinunciare il camp di combattimento. Come ti faccio! Ma sei stato bravissimo! Bravissimo, radrizza, radrizza! Cosa stiamo cercando con il camp è che vogliamo rinforzare e dare loro tutte le strutture che possono usare nella loro vita quotidiana. Quando guardo Sofia e tutti gli altri bambini, vedo un futuro più brillo. Sofì, corri! Veloce, 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 veloce! Sofia per la prima volta poteva vedere tanti altri come lei. Per me è stata una gioia sicuramente. Come sentirsi parte davvero di una famiglia. e il solo sostegno di tutti ti può cambiare la giornata.